Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà da Grigento il 7 luglio prossimo. Con lui dovrebbero essere presenti anche il Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, e anche il Presidente del Senato, Piero Grasso. Il Capo dello Stato ha accolto l'invito che gli è stato rivolto dal Sindaco, Lillo Firetto, di partecipare alle manifestazioni che si terranno nella città dei Templi, in occasione del 150esimo anniversario della nascita di Luigi Pirandello. In effetti il Premio Nobel è nato da Grigento il 28 giugno di 150 anni fa, ma le celebrazioni, organizzate in suo onore quest'anno, vantano un lungo e variegato calendario di appuntamenti che si svolgerà in più sedi. Il dettaglio della manifestazione non è stato ancora stabilito, ma dovrebbe esserci una prima manifestazione al teatro, che porta a punto il nome di Pirandello, dove si vorrebbe anche dare la cittadinanza onoraria al Presidente del Senato, Pietro Grasso, che, come si sa, è nato a Licata, poi in serata si dovrebbe andare nella Casa Museo, in cui lo scrittore nacque, dove dovrebbero svolgersi altri suggestivi momenti, con luce in cielo, a ricordare il momento della sua nascita. Come lui stesso la descrive, una notte di giugno caddi come una luccela sotto un pino solitario in una campagna d'olivi saraceni, affacciata agli orli di un alto piano d'argilla azzurre sul mare africano.